ecco ed ecco che c'è qualcosa qua e il buitre volteggia e cattura stop eccoci ecco qua il nostro campione ecco anche quest'anno oggi anche il cameraman mi ha fatto dei passi da gigante vorrei dire oggi se lo merita perché ha guidato comunque il buitre è sempre lui eccoci qui ecco il nostro esperto sopita il buitre volteggia e cattura sopita sopita sopita